Ma ha fatto bene sicuramente in tutti i sensi, perché ci volevamo rifare dalla prestazione in casa e diciamo che ci serve molto per trovare la fiducia, innanzitutto ci serve molto per la classifica per rimanere a un passo dai play-off e più che altro per trovare fiducia per andare a a Lisbona a cercare di rivaltare la situazione. Ma quello che hanno dimostrato qua è che loro che sono una squadra con una bella panchina, con dei giocatori tanto esperti che sono in condizioni di entrare in qualsiasi momento e rivaltare risultati avversi, quindi noi dobbiamo andare tranquilli, tranquilli ma cattivi a fare la nostra partita, abbiamo tutte le condizioni per poter fare bene, credo che lo abbiamo dimostrato per due set qua in casa, l'abbiamo dimostrato domenica, adesso bisogna andare là a dimostrare e cercare la vittoria. Mi è piaciuta molto la squadra che non avevamo mai molato, la squadra che comunque il primo set giocando non benissimo, facendo tanti errori, siamo stati sempre attaccati, siamo stati con la testa e in questi momenti che si arriva un po' alla fine della stagione quella cosa più importante è starci con la testa, crederci e capire che non dobbiamo fare un gioco perfetto, che ci stanno degli errori, prima li accettammo, prima possiamo andare avanti e pensare alla palla che segue, quindi credo che quella è stata la cosa più importante a Modena.